Oggi devo mostrarvi questo fantastico prodotto che avevo fatto intravedere in uno short, il cilindro IoT della Wheelock. Nello specifico questo è il modello Touch EBL61, un cilindro europeo con sblocco ad impronta. Facciamo subito un veloce unboxing per vedere il contenuto della scatola. Fidato taglierino alla mano e tagliamo la pellicola. Apriamo lo scatolo tirando il sigillo. Prima cosa che troviamo è il libretto di istruzioni. Vediamo se è anche in italiano. Sì ci sono anche le istruzioni d'uso in italiano. Vediamo cos'altro è presente nella scatola. Il modulo IoT per lo sblocco del cilindro, il cilindro europeo, con il pomello interno ovviamente bisognerà fissarlo. Va inserito e permette di ruotare la serratura per aprire la porta dall'interno. Togliamo queste pellicole odiose. Ok. Uno scatolino in plastica trasparente sempre se riesco a toglierlo da qua dentro. Dove all'interno ci sono dei ciondoli con un QR code. Sono tre e credo che debbano essere dei tag magnetici. Viti e altre cose che vedremo successivamente. Una chiave particolare sicuramente per fissare il cilindro al modulo IoT. E non c'è nient'altro. Tutto qui. Ricapitoliamo velocemente. Modulo IoT. Cilindro europeo. Pomello interno. Tre tag magnetici. Una vite per il fissaggio del cilindro rivestita con frenafiletti. Viti e altri accessori. Molto bello questo portachiavi barra cacciavite a croce. Allora io ho montato e settato il modulo. Dopo vi farò vedere come ho fatto. Adesso lo fissiamo su una morsa in modo da farvi vedere bene come funziona. La parte col modulo ovviamente sarà montata verso l'esterno mentre quella con il pomello all'interno. Se provo a ruotare non succede nulla va a vuoto mentre se all'interno provo a ruotare il pomello l'asta del cilindro ruota per poter controllare la serratura. Adesso premiamo il pulsante. Il display si illumina con il logo WeLock. Io ho memorizzato l'impronta del pollice destro. Vedete uscita la scritta Unlocked ovvero sbloccato ID Finger01. Mi dice anche di girare. Le scritte sono in inglese. In fase di setup è possibile scegliere tra tre lingue inglese, tedesco e cinese. Ho scelto per forza di cose l'inglese. Oltre all'impronta è possibile sbloccare la serratura con i portachiavi tag forniti. Dovrete comunque come le impronte memorizzarli. Io ho memorizzato solo un tag. Un'altra cosa fantastica è la possibilità di controllare il dispositivo tramite bluetooth e app. Vi basterà andare sullo store del vostro dispositivo Android o iOS e cercare l'app WeLock. Ne troverete due versioni, almeno nel mio caso, una completa e l'altra light. Io ho scelto quella completa. Installate, date tutti i permessi e registratevi. Dopodiché aggiungerete il nuovo dispositivo scannerizzando il QR code e inserendo l'ID che troverete stampato sul cilindro. Quindi prima di montarlo segnatevi il vostro ID o codice. Una volta fatto, riavviate l'app e ora potete sbloccare e modificare tutto dal vostro telefono. Questo modello non è wifi ma solo bluetooth. Però ho notato che dal sito WeLock è possibile acquistare un piccolo box wifi per poter controllare anche più serrature tramite wifi o dispositivi a comando vocale come Alexa. Quindi una figata pazzesca. Passiamo velocemente a dire come ho fatto a montare e settare il dispositivo. Partiamo col fatto che all'interno della scatola non sono presenti batterie. Quindi dovrete acquistarle a parte. Un consiglio, prendetele di qualità. Personalmente utilizzo solo le Dorachel. Oggi avevo le Philips Alcaline che sono comunque buone. Vi serviranno tre batterie AAA da installare in questo vano. Fatto ciò dovrete collegare il modulo al cilindro facendo molta attenzione al verso e ricordandovi che dopo dovrete montare la vite di fissaggio. Il cilindro si fisserà ad un incastro USB-C. Utilizzerete la chiave che vi hanno fornito per avvitare il modulo al cilindro. Dovete girare in senso anti-orario. Io non l'ho potuta installare da nessuna parte qui in casa. Forse un giorno la utilizzerò per qualche progetto. Dovete premere poi il pulsante superiore per più di 5 secondi per entrare nella modalità setup dove lì andrete a memorizzare la vostra impronta o il tag. Tutto quello che vi ho detto finora è dettagliatamente spiegato nel manuale utente quindi leggetelo bene. Passiamo alle considerazioni finali. È davvero un bellissimo prodotto. Affidabile per quanto riguarda lo sblocco. In tutti i test che ho fatto non ha mai sbagliato una volta. Sembra quasi il sensore dell'iPhone. Anzi anche meglio. Sinceramente non mi fideria di installarlo in una porta d'ingresso ma per proteggere una stanza interna di casa o di un ufficio non sarebbe malvagio. Per chi ha un po' di manualità l'installazione risulterà molto semplice. Non ho mai provato prodotti simili ed è molto figo vedere come una volta sbloccato si fissi il sistema all'asta. Davvero un bel prodotto. Grazie WeLock per avermelo fatto provare. Come per ogni video sotto nella descrizione vi lascio il link nel caso vogliate provarlo anche voi ed eventualmente lo riesca ad ottenere anche un codice sconto. Grazie ancora per aver visto il video. stateva buona.